Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma... Non... Non si legge bene. Era ora! Dopo diecimila anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Per frenare! Ah, che favola essere di nuovo fuori, ragazzi! Alla, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami? Eh, Aladin. Aladin. Aladin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al, o magari solo Din? Che ne dici, Di? Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady! Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi. Mi stiorbo se fumo? Oh, scusa, cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? E' qua la nappa, sì, e vai così alla grande. Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso? Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto? Fermo, aspetta un momento, io sarei il tuo padrone? Esatto, è ganso il giovanotto. Che cosa vuoi chiedermi? Più zono e il più sterminator. Più sattavoato spitto. E' lo più imitato. Ma mai è guagliato. È guagliato, è guagliato, è guagliato, è guagliato, è guagliato. Il peso massimo della lampada. È guagliato, è guagliato. E guagliato... Grazie per la visione!